I rappresentanti delle sei organizzazioni che hanno già lavorato a quello che si guarda il portale della portata. Attivi che sono sportelli di accompagnamento su, diciamo, un'auto. Uno strumento innovativo, digitale, ma anche un contributo concreto a realizzare nel mondo del lavoro la parità di genere, tante volte annunciata ma poi non concretamente realizzata. E' un apprezzamento a tutti coloro che hanno detto possibile raggiungere questo obiettivo per il quale la SISP ha messo a disposizione le proprie strutture e professionalità per consentire ad una donna di poter essere accompagnata in un percorso di formazione ma anche di creazione di nuova impresa. Spero che sia un fatto di estrema importanza e noi siamo qui proprio per incoraggiare questo percorso che parte da quel manifesto del lavoro femminile che è stata un'intuizione dell'assessore Giovanna Marano che voglio ringraziare in maniera particolare. Una piattaforma prodotta e organizzata da SISP per mettere insieme sei portali dedicati all'occupazione femminile, per accompagnare le donne nella ricerca di lavoro, nell'inoltrarsi in un mercato del lavoro che sappiamo è pieno di insidie e contiene ancora un divario di genere troppo ampio.